Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 7 maggio. Ariete, la luna nel vostro segno vi rende certamente più doceli, specialmente in amore. Dovrete affrontare alcuni ostacoli sul lavoro e dovrete tirare fuori le unghie. Toro, il lavoro oggi sarà in primo piano, la luna vi permette di mettere a punto tutti i dettagli di un progetto che da tempo conservate in un cassetto. Gemelli, le amicizie rappresentano una riserva straordinaria, proprio grazie ad una persona influente potete uscire da una situazione dedicata a amore conflittuale. Cancro, novità molto importanti sono previste in famiglia, in amore continuate a fare i capricci, il partner potrebbe non assecondarvi. La luna di oggi è difficile, leone, bellissima luna che vi permette di aprire una nuova pagina della vostra vita. Potete sperare nuove conquiste, sia professionali che sentimentali, datevi da fare. Vergine, abbiamo già parlato della vostra voglia di trasgressione. Oggi sarete le prese con una tentazione a cui sarà difficile resistere. Il discorso è valido in tutti i campi. Bilancia, una luna difficile, quella odierna che però può aprire nuovi scenari sul lavoro, ma anche in amore. Se siete alla ricerca di un socio o di un partner, può presentarsi l'occasione giusta. Scorpione, la luna può riportarvi con la mente al passato, ma non commettete l'errore di andare a riaprire ferite ormai cicatrizzate, soprattutto in amore. Sagittario, bellissima luna che segna una rinascita, specie se siete alla ricerca di una nuova emozione sentimentale, i single possono sperare in un incontro. Capricorno, accuserete un calo di energia, ma cercate di non assentarvi dal lavoro perché tra oggi e domani potrebbero succedere cose clamorose. La fortuna è dalla vostra parte. Acquario, novità in arrivo tramite posto o attraverso una telefonata. Insomma, oggi le comunicazioni saranno decisive con le spese, però dovete essere più attenti. Pesci, giornata buonissima per concludere un affare, specie se di natura immobiliare. Chi ha la ricerca di una casa, ad esempio, potrebbe trovare un'occasione d'oro. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus.